Mi ricordo che anni fa, dispuncita del tromba, ho sentito un giubox che suonava. E nei sogni di bambino, la chitarra era una spada, e chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però l'unica maniera di dire è sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale, delle poste o delle ferrovie. Non potrò mai far carriera, nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Non potrò mai darà, mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Nella mia categoria è tutta gente poco seria, di cui non ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande, che ti simbano la mente, vada loro e non ti preoccupare. Sono a tua disposizione, e sempre senza esitazione, loro ti risponderanno. Io di risposte non ne ho, io faccio solo rock'n'roll. Se ti conviene bene, io più di tanto non posso fare. Gli impresari di partito, mi hanno fatto un altro invito, e hanno detto che finisce male. Ma se non vado pure io, al raduno generale, della grande festa nazionale. Hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, e che anche a loro devo il mio successo. Che sono pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, un sovversivo e un mezzo criminale. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerò normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione, è quella della realtà della ragione. Ero quelli malapena, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. È così e se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette. E con quanto fiato in gola, vi urlerò. Non c'è paura, ma che politica, che cultura. Sono solo canzonette, non mettetemi alle strette. Sono, sono, sono solo canzonette. Grazie.